Io direi aperti con cautela, stiamo attenti a quello che si fa, si disinfetta, purtroppo se si smette di lavorare del tutto come si fa? Io poi sono un'artigiana e quindi la gente ha bisogno che si sposa e quindi può aspettare l'ultimo momento a fare le cose. Fanno il suo appuntamento, quindi non è come entra 10 persone per volta, poi ci disinfettiamo le mani, ci mettiamo i guanti, stiamo attenti a quello che il nostro sindaco ci dice, quindi siamo ligi al dovere. Visto che si sta tanto in casa in questo periodo, si può ascoltare la musica, si possono leggere i libri, è l'occasione giusta per dedicarsi più alla cultura. E' questo, in senso lato, non solo dischi, però ovviamente i dischi da noi si trovano perché i rifornimenti arrivano, devo dire la verità, arriva tutto, le novità sono uscite tutte, contrariamente al cinema che hanno bloccato le uscite, invece i dischi sono usciti tutti. Corso Italia, tardo pomeriggio, una delle zone più frequentate della città di Arezzo, come vedete alle mie spalle ci sono pochissime persone, così come all'interno degli esercizi commerciali. Alcuni hanno deciso addirittura già di chiudere dalle associazioni di categoria, arrivano però posizioni, se vogliamo, in un certo qual modo contrastanti. C'è chi propone di chiudere per 15 giorni per limitare il danno economico e chi invece dice preferiamo rimanere aperti. E dalla Confcommercio arriva l'ipotesi shock chiudere per 15 giorni. Noi viviamo di cassa, i nostri assegni, i nostri pagamenti, i nostri affidamenti li possiamo pagare solo se incassiamo. Quindi in una situazione di straordinarietà di questo tipo, dove già gli incassi praticamente non esistono, è chiaro che dobbiamo essere aiutati. Io dico anche un'altra cosa, che forse noi abbiamo abituato lo Stato e tutti noi piccoli imprenditori a risolvere i problemi da soli. Non abbiamo mai chiesto a nessuno. In questo momento non siamo veramente in grado di risolvere i problemi da soli. Ci siamo fatti promotori appunto di un'altra richiesta. Chiediamo l'allungamento, il congelamento delle rate, degli affidamenti bancari. Chiediamo la cassa integrazione in deroga anche per le aziende che hanno meno di sei dipendenti. Chiediamo il congelamento per alcuni mesi delle tasse, delle utenze, dei tributi. Esercizi aperti invece secondo confesercenti. Tutti comunque attendono le misure che dovrebbero essere varate il prossimo mercoledì. Intanto questa mattina le due associazioni di categoria si sono incontrate con il prefetto per capire come poter far riaprire il mercato settimanale del Giotto. Se c'è la possibilità di vendere credo che si possa continuare a doverlo fare. Questa è la nostra posizione. Mercato settimanale abbiamo fatto una lettera al prefetto nella quale suggeriamo alcuni accorgimenti che abbiamo suggerito al sindaco nell'incontro di sabato. Quello di ridurre il mercato a una sola fila, quindi di mezzare di fatti i banchi. Questo consente nei viali di avere un'ampiezza tale per cui le persone non debbano venire a contatto. Abbiamo suggerito agli operatori di dotarsi di guanti di lattice affinché possano salvaguardarsi e inoltre il cartello che invita le persone a stare a distanti. Chiaramente le persone che poi frequentano i banchi devono avere la responsabilità di stare alle distanze che impone il decreto. Questo è un interesse loro e di tutti.